Una rottura all'interno del terzo polo sembra ormai imminente. Matteo Renzi sembra deciso a fare sul serio. I gruppi di Italia Viva e Azione si divideranno alla Camera e, se possibile dal punto di vista regolamentare, anche al Senato, sebbene i membri di Azione finirebbero nel gruppo misto. Carlo Calenda, leader di Azione, ha espresso la sua frustrazione durante la trasmissione controcorrente su Rete4. Ecco le sue parole. Siamo due partiti diversi con modi diversi di fare politica. Renzi può e faccia quel che vuole sui gruppi. Se vuole andare via è una scelta sua che rispetterò. Io non posso andare via perché sono gruppi che hanno nel simbolo il mio nome. Ma voglio finire questa storia. Perché davvero non ce la faccio più mi sono rotto le balle. Questo balletto non mi appartiene. A Palazzo Madama, Renzi avrebbe il sostegno necessario per costituire una formazione a lui dedicata. Per Azione, invece, la situazione al Senato si complica perché Calenda dovrebbe passare al gruppo misto. Italia Viva risponde alle voci circolanti riguardo alla costituzione di un gruppo autonomo al Senato affermando che tutte le scelte saranno comunicate da loro e invitano a non credere alle fake news circolanti sugli avvenimenti del partito. Nella sua ultima e-news, l'ex presidente del Consiglio si lamenta del dibattito insensato tra Capalbio e Forte dei Marmi su questioni che richiedono una discussione seria, come la commissione d'inchiesta Covid e il salario minimo. Esprime la sua determinazione a continuare a costruire e seminare con impegno e pazienza, nonostante le sfide che sta affrontando. Iscriviti al canale!